Nel secondo weekend da Bollino Rosso per gli spostamenti dovuti alle vacanze estive è ancora una volta la 1 il teatro di un grave incidente stradale. È accaduto intorno alle 17 nel tratto Aretino in direzione sud al chilometro 362. Si è trattato dello scontro tra un'auto della polizia penitenziaria e un camion, quattro i feriti sul posto, la misericordia di Monte San Zavino, la croce bianca di Arezzo, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice rosso alle scotte di Siena. Gli altri tre feriti, tutti uomini, sono stati trasportati al pronto soccorso della fratta di Cortona. Hanno riportato ferite più lievi. Importanti le ripercussioni sul traffico. Tutto il mese di luglio, specialmente al ridosso dei weekend, sarà da Bollino Rosso con milioni di italiani e stranieri che si muoveranno per raggiungere le principali località di villeggiatura. L'ultimo fine settimana di luglio, in particolare, sarà quello più critico.